Roma Roma è la città più bella per quanto riguarda l'Europa non solo quasi del mondo oltre a Milano perché la città tra noi è più casa ma Roma è speciale voi dovete sapere che noi siamo ragazzi molto romantiche i colori di Roma ragazzi sono indimenticabili e quindi abbiamo Roma, abbiamo romanticismo è una città pazzesca con tutte le sue foto e tutte le sue sfaccettature perché è un esercizio per Magnetica affascinante e sicuro ho letto siamo assoluti l'avete detto noi siamo molto camaleonti ci distreggiamo a destra e a sinistra onestamente siamo anche di parola cercate di mantenere ciò che dice dite e noi siamo contenti subito al passo e quindi un'esercizio è un'esercizio